E benché di Moise non si debba ragionare, sendo sudo uno mero esecutore delle cose che gli erano ordinate da Dio, Tamen deve essere ammirato solum per quella grazia che lo faceva degno di parlare con Dio. Ma consideriamo Ciro e gli altri che hanno acquistato o fondato regni. Li troverete tutti mirabili. E se si considereranno le azioni d'ordini loro particolari, parranno non discrepanti da quelli di Moise che ebbe sì gran precettore. Ed esaminando le azioni e vita loro, non si vede che quelli avessero altro della fortuna che l'occasione, la quale dette loro materia a poter introdurvi dentro quella forma parse loro. E senza quella occasione la virtù dell'animo loro gli sarebbe spenta. E senza quella virtù l'occasione sarebbe manuta in vano. Io ho sottolineato tre parole nella lettura, tre parole forti e due più debolmente. Precettore, occasione, ovviamente, e in vano. Queste sono le tre sottolineature principali. Occasioni e in vano vanno insieme. Poi anche materie e forme è abbastanza interessante perché è l'azione degli uomini. Guardando un po' a volo d'uccello tutto il capitolo vi si tratta della dimensione semiotica e performativa della violenza, in particolare della violenza di fondazione, di violenza fondazionale. Poi si parla dei profeti armati e disarmati, di forzare i popoli a credere e a mantenere le credenze. C'è una parte finale sull'apocalittica savonaroliana e in qualche modo una prosecuzione nel capitolo successivo con il grande spettacolo delle cesta del Valentino. E vi si mostra, fra l'altro, nella parte conclusiva, che la profezia è carisma politico e non carisma messianico. Addirittura, nel caso di Agatocle, strage mirata dei concorrenti nel capitolo XIII. Va bene, è notorio che il discorso sul precettore è un discorso ironico. Mosè come esecutore e Dio come procettore è un discorso ironico. E diciamo, in apparenza, lui si astiene dal dare un giudizio su quello che potremmo chiamare l'utilizzatore finale del messaggio divino. E naturalmente non ha il problema di giustificarne teologicamente le pratiche, come invece a suo modo farà nel trattato seologico-politico Spinoza, in modo antiteologico, ma insomma entrando nella materia teologica. Naturalmente l'ironia è messa ancora più in rilievo dalla solennità del latino, solum, tamen. E naturalmente, a confermare, per chi non avesse presente questo, che si tratta di ironia, si pensa ad esempio al capitolo XI, in cui i principati ecclesiastici sono retti da cagioni superiori alle quali la mente umana non aggiugne. Ecco, ma il punto importante, se volevo mettere l'accento sul precettore, è che la parola precettore ritorna con due occorrenze, per quanto mi ricordo nel Principe. Qui è nel capitolo XVIII su Chirone. Sono due precettori molto diversi, uno addirittura a Dio, l'altro è un mezzo animale. Naturalmente il tema dell'occasione è fortemente marcato anche dalla sintassi. Era dunque necessario a Moise, che segue l'occasione che utilizza, cioè l'estrema depressione del popolo ebraico. Conveniva che Romulo, in una situazione drammatica, tenesse insieme i Romani. Bisognava che Ciro... Quindi c'è sempre una situazione di estremo pericolo che favorisce il consenso. O meglio, il pericolo è proprio l'occasione di una scommessa, possiamo dire, no? Una scommessa a cui volentieri si prestano quelli che poi fanno massa, diciamo, per realizzare una certa impresa. Il trio fortuna-occasione-virtù, ovviamente che l'occasione qui sia centrale, inutile ripetere, insomma, nella Tusseri un po' c'è stato un diluvio di interpretazioni sull'occasione, no? Ecco, interessante però che questo triade, diciamo, fortuna-occasione-virtù non ha una gerarchia unilineare, cioè non è che uno dei termini e gli altri, è piuttosto un rapporto circolare. E io insisterei molto su questo fatto, che dice alla fine, senza quella virtù, l'occasione sarebbe venuta invano. L'occasione, in realtà, come la valutiamo? Beh, una cosa più semplice sarebbe dire che l'occasione è quando l'occasione viene colta e si realizza una situazione stabile, no? Come dice la Tusser, fa presa, diciamo, l'acqua di gelata fa presa. Però, forse è ancora più significativo, semanticamente, in termini di rarità dell'informazione, che l'occasione noi la consideriamo soprattutto quando l'occasione viene persa. Quindi, l'importanza dell'invano. Non a caso, la grande trattazione dell'occasione, il Duca Valentino, che non è di questo capito, non è un altro successivo, è un'occasione persa, per un motivo o per l'altro. E questo, diciamo, non è soltanto le grandi occasioni, no? Se volete, a livello elementare, quello che si chiama in francese l'esprit de l'escalier, che è venuta in mente una battuta bellissima, fuori tempo, ormai è passato il tempo, stai già uscendo dal salotto, e ti viene in mente, hai perso questa occasione. Una cosa minima, e però, appunto, allora capisci quanto certe cose vanno fatte in un determinato momento, in una determinata circostanza. E però, una volta che l'occasione è fatto presa, bisogna, in qualche modo, mantenerla. E qui entra la coppia a credere e forzare, pregare, che è pure una grande forza di convenzione nel caso di Savonarola, e poi credere per forza, cioè consolidare con una forza armata questa posizione. E naturalmente il profeta, in questo capitolo, è un capo carismatico, nella tradizione che va da Al-Farabi fino a Max Weber, tenendo conto che, appunto, Machiavelli non conosceva assolutamente Al-Farabi come non avrebbe potuto conoscere Max Weber. Però, lo spirito, l'idea che quello è carisma e che il profeta è chi dà forza all'immaginazione e anche una sanzione superiore, diciamo, no? Seudo trascendente al carisma, quello evidentemente c'è molto forte. Ecco, l'altro elemento interessante che viene in mente sulla, non solo sull'occasione, ma sul precettore, è che al precettore corrisponde qualcuno che segue. Cioè, il precettore è il rovescio dell'imitazione. Quindi, questo è un punto, secondo me, importante e naturalmente qui ci ritorna, insomma, nei discorsi, quando parla di Savonarola che persuade i fiorentini perché i fiorentini credevano di essersi tanto astuti, ma insomma non erano poi tanto diversi dagli uomini semplici. Lui non vuole giudicare, cito nei discorsi, se gli era vero o no, quello che diceva Savonarola, no? Perché di uno tanto uomo se ne deve parlare con riverenza, solita ironia. E però questa riverenza derivava dal fatto che appunto Savonarola era un soggetto carismatico. La vita sua e la dottrina del soggetto che prese erano sufficienti a fargli prestare fede, anche se non c'era nessun miracolo che attestasse neanche gli pseudo-miracoli di Mosè. E questo perché? Perché l'imitazione si basa da un lato sull'esistenza di un precettore materiale o simbolico. E dall'altro sul fatto che ovviamente è inutile fare tutte le citazioni qui, come dice nella prefazione nostra dei discorsi, gli uomini sempre nacquero, vissero e morirono con un omelesimo ordine. E quindi si possono seguire i sentieri battuti. Con esito, incerto, perché qui a questo punto alla coppia imitazione precettore viene a corrispondere anche il discorso dell'occasione. Ecco, e allora la cosa interessante è che se qui abbiamo visto Dio come precettore, il precettore più autentico, quello che effettivamente dà precetti verificabili, o almeno simbolicamente verificabili, è Chirone, che è mezzo uomo e mezzo bestia. E qui naturalmente si apre tutto il discorso sulla combinazione della colpe e del lione, della credenza e della forza, o come scrivere i documenti in ufficio della prudenzia e delle forze. E il passaggio su Chirone è molto noto, l'uno con le leggi, l'altro con la forza, quel primo è proprio dell'uomo, quel secondo delle bestie. Ma perché il primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo. E quindi due elementi, bestiale e umano, si intrecciano e questo fa capire quanto sia precaria l'imitazione, perché se l'imitazione fosse soltanto degli esempi antichi o anche degli esempi contemporanei come Duga Valentino, il discorso sarebbe abbastanza semplice, rientrarebbe in una logica umanistica tradizionale che bisogna imitare i grandi esempi del passato, i grandi esempi stanno fermi, lì, sono i testi di Cicerone, di Petrarca, se vogliamo dire, si interebbe semplicemente di aggiustarli, di accomodarli. Invece, se introduciamo l'elemento della bestia, che vuol dire imitare la bestia? Vuol dire attingere delle forze che stanno dentro di noi, non a un modello esterno. E quindi, a maggior ragione, si vede quanto l'imitazione sia condizionata dall'occasione esterna e da come il temperamento interno dell'uomo si presta, perché non tutti sanno fare la volpe quando le circostanze richiedono la volpe, non tutti sanno fare il leone quando le circostanze richiedono il leone. E la stessa differenza, che non è proprio uguale, ma fra il rispettivo e il ruente, diciamo, è un'altra sfumatura che riguarda i tempi, la temporalità con tutti adatti alla situazione. E un esempio in cui si mettono insieme le due cose è poi nel diciannovesimo capitolo Settimio Severo, che ha insieme la capacità di passare dalla fase volpe alla fase leone e bisogna imitare da parte di un principe nuovo queste qualità di Settimio Severo. Facile? No, non è affatto facile, è sottoposto a molte variazioni di struttura e quindi non basta leggere le storie e in quelle considerare le azioni dell'uomo di eccellenti, le cagioni, le vittorie, le perdite loro, come dice il capitolo 14, ma si tratta di combattere con le caratteristiche della natura umana e a questo punto perfino Dio è un sì gran precettore perché è colto nella sua carica di puro simbolo di forze che sfuggono e superano il controllo umano. Ecco, vorrei fare un'ultima considerazione su Rousseau che per tanti aspetti segue riprende la lettera a Machiavelli in un progetto machiavelliano cioè politico costituente. Ecco, questa oscillazione fra l'umano e il bestiale venne ripresa da Rousseau nella figura del legislatore in cui uscita proprio Numa, Romolo tutti i personaggi machiavelliani è una situazione ambigua perché il legislatore non può usare né la forza del leone né la ragione per motivi diversi perché la forza è controconoscente l'astuzia il ragionamento non si fa al carattere ancora ruzzolo e popolo da educare e quindi deve ricorrere all'immaginazione e qui riprende proprio il tema machiavelliano del parere del mostrare qualità anche che non si hanno e naturalmente in Rousseau c'è anche una esplicita intenzione pedagogica che invece Machiavelli non c'è però questo sarà trattato in altri capitoli del Principe di Rousseau 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 Grazie a tutti